Ciao, Nea. Come va? Non è un po' più male. Stiamo lontano. Stiamo lontano. Te lo ricordi questo? Giubbotto calamita? Questo li tira su tutti. Te lo ricordi? Vuoi che facciamo come l'altra volta? Ecco, adesso sono tutti qua dentro. Te sei pulito. Ci penso io a eliminarli, va bene? Giovanea. Ciao.